50 minuti o forse di più per decretare l'altra finalista che sfiderà pwc deals si giocano un posto nella finale dell'apertura e nelle final four banca sistema e che banca che si allontana lascia fissa segola che calcia sul palo del portiere trova un super goal e davanti che banca in tanti fondamentali occhio a perino che si gira e calcia e trova l'angolo giusto partenza shock palla dentro dove c'è di maria occhio brambilla al limite brambilla non calcia va sul mancino sterzata attaccato da due si gira bene va da pozzi vediamo se calcia lui lo fa arriva col piazzato tonini si distende bene c'è serva sul pallone rincorsa e destro potendo dorazio con i pugni passa gerundini vince anche un doppio duello occhio a gerundini gerundini palla larga c'è brambilla dentro e lavora bene dopo il pallone poi calcia subito eccolo qui il lampo che serviva banca sistema per riaprirla dentro non è ma l'idea verso selva che la controllo occhio a selva selva calcia eccolo qui torna sul più due che banca brambilla dentro da brustenga c'è il fallo ed è calcio di rigore per riaprire nuovamente la semifinale brambilla brambilla spiazza il portiere fa 2 a 3 fissa segola in caduta vada papa dorazio col piedone dentro da gerundini che deve ridargli la sporcata ma c'è comunque papa e sceglie il destro e riporta in sua distanza di sicurezza rossi non male verso brustenga brustenga di testa sul palo fissa segola sul secondo pallo verso gerundini segna gerundini ma che palla messa capitano vissa segola per un dimmi si gira gerundini trova l'angolino lontano segna ancora gerundini talato prova a stare talato ne salta a tutti talato dorazio poi fissa segola a porta vuota papa la chiude lui l'abito che fischia per i gol ma fischia anche tre volte può bastare così la finale dell'apertura tra pwc deals contro che banca arriverà in finale pwc deals insomma la squadra in cui avete cominciato questo torneo d'apertura insomma tanti aneddoti su questa finale è una squadra fisica che si difende bene riparte cosa ti aspetti da questa finale mi aspetta una finale tosta magari non spettacolare secondo me l'abbiamo vista nella prima partita del girone una squadra tosta che ti aspetta riparte come hai detto te però dai siamo cresciuti e torniamo sui paesi dell'anno scorso secondo me sarà una buona partita comunque grazie complimenti in bocca al lupo intervista postparte anche con andrea rotuno di banca sistema peccato perché vi è mancato veramente forse un po di precisione l'ultimo passaggio avete gestito comunque una fin una semifinale peccato però c'è una clausura tutta da affrontare sì sicuramente affronteremo la clausura con un po più di convinzione che nelle prime partite ovviamente ci mancava siamo un gruppo nuovo poi sulle ali dell'entusiasmo abbiamo iniziato a giocare anche un buon calcio quest'oggi forse quello che ha premiato gli avversari è stato qualche errore come dicevi te che su delle ripartenze ci hanno punito cioè loro sono una squadra esperta giocano un buon calcio fanno girare la palla e poi hanno due o tre elementi che giocano proprio a pallone quindi ci sta insomma una sconfitta secondo me anche giusta su certi aspetti forse penalizzata da degli episodi proprio di campo ma va bene così siete comunque la grande sorpresa di questa apertura perché siete partiti in sordina poi siete cresciuti insomma rimane questo entusiasmo che vi sta caratterizzando abbiamo iniziato un pochino con un po di diciamo freschezza insomma nel senso che abbiamo iniziato a giocare con un po più di tranquillità che nelle prime due partite forse non c'era l'entusiasmo come vedete anche sui social è abbastanza forte ci contavamo tanto di andare in finale più per avere un accesso dietro le final four ma va bene ci proveremo nel clausura bocca al lupo grazie complimenti